il segreti cali stabilito un negozio di animali guardate questi jackie dal buffo aspetto amici miei scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui si sposti la prego leone marino perché questo grande leone marino non ci lascia passare per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno